Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata di Power Pizza Century Perché se non lo sapesse è la puntata 100 questa E quindi non può essere né World né Future ma solo Century Sì ma potevi anche non dirlo visto che ti avevo chiesto di non dire World Future Hai comunque trovato un modo di dirlo, dannazione Non ci avrei neanche pensato se tu non mi avessi detto un attimo prima Per favore non dirlo, il mio cervello ha sentito il bisogno di dirlo Benvenuti nel vero primo traguardo gigantesco di Power Pizza Ciao Sio, ciao Nick e ciao a tutti voi che siete qua con noi oggi Non siamo morti per due anni di seguito Ciao amici, ciao ragazzi sono felicissimo di sentirvi di nuovo Come tutte le settimane di questi due ultimi anni Assolutamente sono stati migliori della mia vita Il tempo vola quando ci si diverte Inserisci gag sul fatto che ci sembra di aver iniziato ieri Invece sono passati due anni Due anni sono tanti Non solo due anni Due anni e qualche giorno Ok, grazie Sio per la precisazione Power Pizza ci sono solo dati esatti Solo approccio scientifico per Power Pizza Parlando di approccio scientifico Dato che mi sentivo entusiasta del numero 100 Ho detto vado a cercarmi che cosa significhi Oh no E a quanto pare il numero 100 è una combinazione di attributi e vibrazioni dei numeri 1 e 0 Il numero 0 appare due volte in questo numero e ciò amplifica la sua influenza È vero È vero Se no sarebbe 10 Poiché il numero 0 in generale amplifica l'influenza di altri numeri Come non è appena stato detto In questo caso amplifica anche l'influenza del numero 1 Ragazzi che cosa bellissima che è la numerologia Wow Visto che è una cosa così interessante Ti prego Droppa queste perde di saggezza Non tutte in una volta Ma sparse nell'episodio Anche così non le devo ascoltare tutte insieme E caspita che saggezza comunque Ma quindi il fatto che il numero 1 simboleggi anche la creazione della tua realtà Attraverso le tue azioni, pensieri e credenze Non vuoi che lo dica adesso? Ah ok Va bene I miei fori del chakra sono apertissimi Ma non per la cosa che hai detto Più che altro perché sono contento di vedervi Allora è il momento di aprire un buon pacchetto di chakra E sgranocchiare qualche chakra per iniziare l'episodio E con chakra intendo grissini Senti devi fare i rumori nel microfono dannazione No questa l'edito io Sono i bufi Musica di rock Il primo che volevo leggere è di Fran De Martino Che scrive La scena di Loramol è stata da un cliente che entra in cucina a fare un ordine Era in un film di Tarantino se non sbaglio No Fran perché Quelle piccole cose che tra l'altro mi sono state chieste da un sacco di ascoltatori Ma sono cose che succedono davvero? Sì ma non sono niente Qual è la quotidianità? Le scene da film di Tarantino purtroppo non ne posso parlare in puntata Perché sennò ho dei travasi di bile gravissimi Abbiamo visto l'orro avere dei travasi di bile non è un bello spettacolo Ma poi travasare dove? Comunque ho un altro commento di Osvaldo Sfascia Seggiole Che chiede se c'è sviluppo dei personaggi in Watchmen E non ho neanche intenzione di rispondere Volevo solo dire bel commento Forse Effettivamente quando ha scritto quel commento non potevo ancora sapere che nella puntata successiva Avresti stramega rotto le palle con un'analisi abbrondichissima di Watchmen Mi dispiace ma potremmo fare una monografica su Watchmen quando volete Perché ho tipo detto il 10% delle cose di cui volevo parlare praticamente Monografica? Beh parliamone più avanti in questa puntata Foreshadowing? Oh! Senza S Hai dei chakra da leggere Nick? Sì assolutamente ho dei chakra da sgranocchiare Dei chakra da aprire come le confezioni di Grissini Tipo quello di Matteo Bellin che dice Ehi Nick sai cos'è meglio dei giochi a un euro? Spoiler niente I giochi a zero euro Ho riscoperto dopo anni di inattività Hearthstone nella modalità Battleground Ed è diventato una droga È super bello Non sei costretto a crearti i mazzi o a seguire ogni espansione E soprattutto è free to play Nell'episodio 1 dicevi che Hearthstone è il gioco della vita Sono certo che ritornerà ad essere tale Emoji dello ridere tantissimo Allora caro amico Matteo Hearthstone rientra in quella categoria di giochi Da cui mi devo disintossicare Sono riuscito Sono pulito E più di un anno che non ci gioco Non venire a brandire quel nome davanti alla mia faccia Perché sono molto molto suscettibile in questo periodo Sì Nick è da mesi che gira con una spilletta Libero d'Hearthstone da tre mesi Libero d'Hearthstone da quattro mesi And so on Ci sono altri giochi per cui ho dovuto fare la stessa cosa E ci sono ancora adesso degli amici che hanno le mie password Di account di giochi a cui non posso più giocare E gli ho chiesto di non darmela mai più Cioè a prescindere da quello che chiedessi Quindi no Hearthstone basta Fuori dalla mia vita Sei esattamente come un tossico Non hai buttato via le bottiglie di Hearthstone Ma hai detto ecco ho chiuso a chiave in questo armadietto Le bottiglie di Hearthstone Tieni la chiave Non darmela eh Però non buttiamole via Che non si sa mai che io voglia bermele una notte improvvisamente Giusto L'altro Cristino che volevo leggere È di Gabriele Falasca Che mi ha reso super felice Perché scrive Chi vuole più bene ai propri clienti Tra l'orro e Bernard di Black Books E mi è super riempita di gioia Perché Black Books è una delle mie serie preferite E per qualche ragione non ne abbiamo mai parlato su Power Pizza Non lo faremo oggi Però vi dico solo Ottimo consiglio Se potete recuperatela E sì comunque Penso che io e Bernard Black Ce la giochiamo Più o meno sullo stesso livello Sicuramente Anzi questo mi ricorda che nelle prossime puntate Parlerò di altre serie di questo genere qua Perché ne sto guardando una nuova Che si chiama What we do in the shadows Foreshadowing Ok nice L'unica cosa che volevo ancora dire L'unico grissino che volevo sgranocchiare Prima di lanciarci ad aprire il menu E' quello di Ice Cream Enthusiast Best nome grazie Che dice Kanye West si candida come presidente degli Stati Uniti E ha già avuto l'endorsement di Elon Musk Comincio a pensare che il 2020 sia scritto e diretto da Nick Loresio Risposta no Perché avremmo fatto tantissime cose in maniera diversa Sì E soprattutto avrebbe fatto molto più ridere E molti più buchi di sceneggiatura Oddio fa abbastanza ridere Esatto Cioè Kanye West e Elon Musk Per l'amor del cielo Sono dei geni nei loro rispettivi campi Però sono anche dei pazzi svalvolati Quindi questa cosa a me personalmente fa mega ridere Sì Ok Però è vero che tipo Se il 2020 fosse stato diretto da Nick Loresio Secondo me non sarebbe stato un dramma Ma sarebbe stata più una commedia romantica No lo sarebbe stato Simpatica Cioè sai benissimo Lo sarebbe stato Comunque Ci saremmo dimenticati di fare le cose Ci sarebbe stato stato tipo un giorno in cui c'era la pizza gratis per tutti e basta Cosa? L'aria serviva anche ad aprile Io chiudo i grissini della fantastica puntata numero 100 Con un grissino di dolci emozioni Che anzi ci lascia tre grissini Che uno è una serie di cuoricini L'altro è vi voglio molto bene E un altro ancora è molto Grazie dolci emozioni Ci fai provare anche tu delle dolci emozioni Che spero che sia nome e cognome Una volta che abbiamo avuto il nostro antipastino di grissini È il momento come diceva Nick di aprire il menu Oh la 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 Forse ve ne sarete già accorti Ma ci sono succose novità Dal punto di vista estetico Esatto L'orro si è tagliato i capelli Finalmente Abbiamo finalmente assoldato una persona Che ha tagliato i capelli a Power Pizza Finalmente il nuovo look di Power Pizza Sfoltita la chioma del vecchio look Penso si dica così Non lo sa Comunque Chiara Zuliani ci ha fatto le grafiche nuove Sono bellissime Super belle Grazie Chiara Tutti gli ultimi mesi stavo malissimo Perché le volevo usare Ma c'eravamo imposti Di metterle dalla puntata 100 Ogni tanto le guardavo E dicevo Oddio le voglio usare così tanto Io ce l'ho come sfondo Dalla puntata 75 Di tutte le cose che possiedo Infatti per me dico Ah sì ma usiamo queste Ma mi sembrano un po' vecchie ormai Però sono bellissime No è che è stata un'idea pessima Quella di chiedergliele Con così tanto tempo No Con così tanto anticipo Perché ci siamo seduti sopra Su queste grafiche così tanto Però adesso potete Ehm 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 Wow Ok Tolto questa novità Ci sono altre novità Che ci attendono Beh aspetta C'è una main news in realtà Importantissima Che prima di parlare Di quello di cui dobbiamo parlare Ehm Bisogna dire Che l'adattamento Di Evangelion Senza cannarsi Ehm 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 Non assolutamente Nessuno dei tre No Non diventare Nick Anche tu da Nazione Perché smettiamola di mentire Continuamente Quindi Lanciamoci nelle recensioni Dove io recensirò finalmente L'adattamento Non di cannarsi di Evangelion Dieci fette di pizza Sulla fiducia Perché non è di cannarsi Fine della cosa Esatto Specifichiamo che non l'avevo ancora visto Quindi ok Hooray Che hanno rifatto L'adattamento Ma Non l'abbiamo ancora visto Quindi boh Sarà bello Farà schifo Non ne abbiamo idea Al momento Update nel futuro Però volevamo comunicarvelo Visto che Esattamente Circa Un po' di puntate fa Ne avevamo parlato E quindi Eccolo qua In più In più Non dimentichiamoci Di dire che Per questa puntata Abbiamo uno sponsor D'eccellenza Magico Di cui parleremo Più avanti nella puntata Uh Mistero Ringraziamo Sponsor segreto Che ha sponsorizzato Questa puntata Secretamente Secretamente Ve lo spieghiamo dopo Bene Bene ma quindi Come si celebra Power Pizza Il centesimo episodio O come poi è rimasta Negli annali Power Pizza Century Facendo Anziché una recensione Un atto di gentilezza E tirando un consiglio Da cento pizze Ai nostri ascoltatori No non cento pizze Cento fette di pizza Ragazzi Avevamo deciso Ah ok Allora forse ho sbagliato contenuto Vado a cercarne un altro Un po' meno bello Sapete che La loro ufficiale Di Power Pizza Impone che Un voto di una pizza Possa andare solo Da 0 a 10 fette di pizza Con La cosa Eccezionale Una volta all'anno Di 10 pizze Tranne che Nella puntata Cento Dove Tutti e tre Consiglieremo Una cosa Da cento fette di pizza Solo poche cose Nel mondo Possano freggiarsi Di avere un riconoscimento Così eccelso Scusate ma 10 pizze Sono cento fette di pizza Devi stare zitto Se non facciamo cento pizze Non c'è Devi stare zitto È diversa La cosa Dannazione Io l'avevo pensata Come una pizza Tagliata in tantissime Fettine Piccolissime Così è la stessa Una pizza Ma ti sembra di mangiare Un sacco Sarebbero tipo Due filamenti Praticamente Quelle fette Cosa Allora Siccome questa è la puntata Cento E abbiamo deciso Di dare questi consiglioni Magici Da cento fette di pizza Piccolissime A quanto pare E Volevamo fare altre cose Super speciali E cioè Oggi abbiamo Uno Ma ben due libri Da consigliarvi E non li ho letti io È una cosa Bellissima Double What E quindi Inizierei dal più improbabile lettore di parole cartacee E cioè il nostro amico NicolaBernardi.com Che abbiamo invitato qui su PowerPizza Ciao benvenuto Il famoso lettore NicolaBernardi.com Ciao grazie ragazzi Sì Congratulazioni per la puntata cento È un traguardo importante Sono con voi Grazie Grazie Che spiritualmente Vi abbraccerei Avete uno studio molto bello Che bello Benissimo Di cosa vuoi parlarci Nicola? C'è un motivo Se io oggi Quando mi si dà l'occasione Di portare una cosa Da cento fette di pizza Porto un libro E non è perché Questo libro Sia eccezionale Ma perché È l'unico che ho letto In realtà Non necessariamente Ne ho letti molto pochi Però questo mi è piaciuto tantissimo E di sicuro vince il premio Non so se l'ho già detto Nelle puntate scorse Ma vince il premio di Libro che io ho regalato A più persone Perché volevo liberarmene Perché ne avevo troppi Oh no Ne ho comprate mille copie Su Amazon Esatto E facevo parte del Kickstarter Che ha fatto in modo Che il libro nascesse Boh Fondamentalmente Vorrei parlarvi di Dance 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 Di Murakami Haruki Che è in assoluto Il mio libro preferito Unexpected E non vi voglio assolutamente Non vi voglio assolutamente Raccontare la storia del libro Ok Non vi serve Se vi piace Cioè se vi fidate Di un consiglio Andate a prenderlo Vi spiego perché È così importante per me Prima cosa L'ho letto quando studiavamo Lingue orientali a Venezia E a un certo punto Mentre stavo leggendo Questo libro Sono successe Una serie di cose Tipo passare degli esami In maniera inaspettata Riuscire A poter scegliere Dove fare Tipo lo scambio Con una scuola giapponese Wow Quindi in realtà Le cose che ti piacciono Di questo libro Non sono Cioè non sono Del libro in sé Sono le storie mie Accidentalmente Esatto Più o meno Ok Comunque No spoilers Ok Quando ho dovuto scegliere Dove andare in Giappone Ho scelto Sapporo Dove poi siamo andati Io e Sio Perché il libro Che stavo leggendo Che è Dance and Sense Parla dell'hotel delfino A Sapporo E io volevo andare a vedere Se effettivamente c'era L'hotel delfino A Sapporo Wow È così tanto Nick Questo aneddoto Che cosa splendida Spoiler Forse non c'è Ma Un'altra cosa È che c'è un passaggio Particolare nel libro Che per me Ha un senso Molto importante E Lo posso citare Dicendo che Il personaggio principale Racconta Di come in realtà Siamo tutti Soltanto spalando neve È una piccola cosa Ambientata nell'Hokkaido Quindi la parte nevosa Del Giappone Io in questo momento Non sto spalando neve Di cosa stai parlando Il libro in sé Attraverso la sua storia Parla di un determinato Tipo di approccio Alla vita E soprattutto Alla perdita E alla perdita Dei rapporti importanti Che Ha rappresentato per me Un momento veramente Forte della mia vita E tutte le volte Da quando l'ho letto Tutte le volte Che ho incontrato Delle persone Che stessero attraversando Un momento difficile Della loro vita In cui si sentivano bloccati Tutte le volte Ho regalato a queste persone Una copia di Dance and Stance Dicendo Questo libro Mi ha aiutato in un momento Secondo me È la chiave Per non risolvere Il problema che stai vivendo Ma per stare meglio Wow Madonna Ed è una cosa Che per me è super importante Che quindi voglio Condividere con gli altri Trovo che sia un libro bellissimo È il seguito Di un altro libro Che si chiama Harry Potter Il prigioniero di Azkaban Esatto Harry Potter Il prigioniero di Murakami Esatto Infatti sono Harry Potter 1,2,3,4,5 Dance and Stance 6,7 O no 4 forse Non sappiamo l'ordine Dei libri di Harry Potter Scusateci Non mi ricordo Se viene prima il 4 O il 7 Dance and Stance Volevo solo dirvi Che segue un libro È il seguito di un libro Che si chiama Nel segno della pecora Che ho letto È super bello Non serve leggere Nel segno della pecora Prima di aver letto Dance and Stance Però di sicuro Fa molto ridere Leggere nel segno della pecora Dopo aver letto Dance and Stance E soprattutto Dopo aver letto Questo libro Dovete andare a Sapporo A controllare Che quel hotel Esista effettivamente Sì È vero Dovreste farlo Tra l'altro non esiste Ma sappiamo benissimo Che il Prince Hotel Non so Io l'ho letto Anch'io questo libro Il Prince Hotel a Sapporo Nella mia testa È l'Hotel Delfino Ho solo un aneddoto Su questo libro Che mi ha consigliato Tantissimo Nick L'ho letto Mentre ero a Sapporo Perché Nick continuava a parlare Di questo hotel Non smetteva di Non smetteva di Parlare di questo hotel Nick andiamo a scuola No andiamo a cercare L'Hotel Delfino Ma non c'è più Hotel Delfino Presto Un invasato Era pazzo Allora Per farlo stare zitto Me lo sono letto Pure io E mi ricordo Che l'ho finito Una mattina Che avevo la febbre E Erano tipo le 3 di notte Non riuscivo a dormire Ma c'era già il sole E io tipo Camminando Sono andato a fare la spesa In un supermercato Che è aperto 24 ore su 24 Ho letto questo libro E mi ricordo Che ho fatto Questa cosa Febricitante Volevo solo condividere Con voi questo aneddoto Visto che Wow Che aneddoto Confusissimo Confusissimo Esattamente come L'ha vissuta lui Probabilmente Sì Sì Ero confusissimo Perché avevo la febbre Sì Figo Figo Bello Quindi Grazie di questo consiglione Nick Prego Grazie La mia domanda Che voglio fare Che voglio fare a voi due Vogliamo consigliare Un'altra cosa O vogliamo parlare Dello sponsor È il momento Dello sponsor È un ottimo momento Per parlare Dello sponsor E per Prima di parlare Dello sponsor Volevo solo dire Che Dance Dance È molto meglio Di 1.Q184 A Rufino Di Akami Tittomo Nonostante Non l'abbia mai letto Wow La vostra raffaida Con questo libro Che prosegue Nelle puntate Rabbia Fortissima No Invece Al posto Di un libro brutto Parliamo di una cosa Bella Lo sponsor Di oggi Chi è? Allora Per la centesima Puntata Abbiamo il miglior Sponsor Della vita Perché Per questo Centesimo episodio Di Powerpizza Lo sponsor È il numero Cento Che indica L'infinito Potenziale L'autodeterminazione Isolamento Integrità Autosufficienza E indipendenza Soprattutto le persone Che risuonano con questo numero Sono molto indipendenti Autosufficienti Di nuovo Lo sponsor È la numerologia Giusto? No Lo sponsor Di questo episodio Di Powerpizza È Powerpizza Wow Che bellissimo Noi siamo gli sponsor Di noi stessi Lorro Dopo fatti un bonifico Da solo Per favore Abbiamo trovato Il modo Di rompere La finanza mondiale Mi farò un bonifico Da 20.000 euro Creando dei soldi Dal nulla No Cosa succede Che da oggi Oltre alle nuove Sgargianti grafiche Di Chiara Inauguriamo un'altra cosa Ovvero Il nostro Patreon Abbiamo un Patreon Dun 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 Powerpizza Patreon Suoni Mofi Dub Hub Sto dab Sto dabbando Che cos'è un Patreon Prima di tutto Per quelli di voi Che non dovessero Saperlo Allora Il Patreon È un sistema Che permette Alle persone Che vogliono Di supportare Dei creatori Di contenuto Di cui sono Dei fans E in questo modo Accedere A tutta una serie Di cose in più Rispetto a quelle Che di solito Vengono fatte In pratica Patreon è un sistema Di abbonamento Mensile La natura di Powerpizza Non cambierà Perché Powerpizza Rimarrà gratuito Come lo conoscete adesso Ma Per sempre Per tutti quelli Che decideranno Di supportarci Ci saranno Tutta una serie Di cose in più Divise in Comody tier Di cui vi parleremo A breve Oppure tipo adesso No perché La questione è che Perché Perché vogliamo Lanciare un Patreon Perché vogliamo fare Più Powerpizza Vogliamo avere più scuse Per hangoutare Nick Zionario Prego Con noi altri Prego Perché io voglio Molto bene Alloro e Nick Non posso parlare Per loro Non so quanto vogliano Bene Alloro e Nick Che bene Che vi voglio anch'io Sono così onesto Mentre dico questa frase No scherzo Sto leggendo Sto leggendo da Sto leggendo da Un foglietto Esatto E che fare Powerpizza È bellissimo E lo vogliamo fare di più E abbiamo imparato Che purtroppo Come in tutte le cose Per fare cose in più Serve tempo E visto che appunto Viviamo nel capitalismo Il tempo è denaro E il denaro è tempo Esatto Quindi grazie al vostro supporto Quello che vogliamo fare È ampliare tutto quanto E iniziare a fare Molte più cose Esatto Fare più Powerpizza Sì E ascolta Spieghiamo bene Che cosa vogliamo fare Che cosa vogliamo offrire Per dire che cosa Il nostro sponsor Powerpizza Allora il primo tier A cui potrete accedere È il tier marinara Da 3 euro Che vi darà accesso Infinito in realtà Al gruppo telegram Di Powerpizza Che è un gruppo Rivolto più a voi Ascoltatori Dove fondamentalmente Potrete parlare Di cose relative A Powerpizza O delle cose Di cui parliamo in puntata Tra di voi Ci saremo anche noi Nel gruppo Non sempre Ma l'importante È che non parliate Di cose non relative A Powerpizza Importantissimo Sì se parlate di qualcosa Che non riguarda Powerpizza Cioè abbiamo i vostri dati Vi mandiamo la polizia A casa Esatto In questo tier Avrete quindi l'accesso Al gruppo telegram Di Powerpizza E i ringraziamenti Sull'esclusivo Muro della pizzeria Che cos'è Sio Vovov Il muro Della pizzeria Punto com È un jpeg Che però È collettivamente Aggiorneremo Man mano Che avremo Dei Powerpatterons E praticamente Scriveremo Il vostro nome Come se Imbrattassimo Un muro vero E scriveremo A mano Tutti i vostri Bellissimi nomi E faremo Dei disegnini Attorno Sia io Che Laura Nick Scriveremo Delle cose E non so Più il vostro nome È buffo Più in maniera Concitata Lo scriverà Nick Perché fa la fatica A scrivere Mentre ride Ma questo non è che L'inizio Perché poi Andiamo nei tier Più succosi Perché a 5 euro Ci sarà il tier Margherita Gnammete Che è esattamente Come il tier marinara Ma c'è sopra L'ingrediente più buono Della vita Che è la mozzarella Esatto Specifichiamo Tutti i tier Scusa che ti interrompo Specifichiamo Tutti i tier Hanno ovviamente Tutte le cose Dei tier precedenti Più cose in più Esatto Quindi la margherita È una marinara Quindi hai L'accesso a telegram E il muro Il muro della Puzzeria Il muro della pizzeria Punto com Che sarà tipo Probabilmente la pizzeria Più brutta del mondo Ma imbrattata Dei nomi Delle persone migliori Dell'universo Con in più L'after show Ogni settimana Noi registriamo I diciamo 15-20 minuti Successivi alla puntata In cui Smettiamo di essere Così professionali E preparati E l'intonazione Della voce Smette di essere Così perfettamente Inflessa Hai ragione E diciamo Altre stronzate E tipo Ve lo regaliamo Vi regaliamo 20 minuti Più di puntata Per ogni settimana Cioè tranne che Non ve lo regaliamo Perché lì dovete pagare Però Sì Beh ma Dopo la transazione Tutto quello che gli diamo In realtà è un regalo Vero è vero Esatto Loro ci regalano dei soldi Noi gli regaliamo L'after show Che Nick Hai veramente inventato Il nome dell'after show La mozzarella Perché la marinara È l'aggiunta La margherita È la mozzarella Con la margherita No aspetta Con la marinara sotto Esatto Perché cosa si fa Alla fine di un buon pasto Dopo aver mangiato I grissini La pizza Bevuto l'amaro Un'altra mozzarella È la mozzarella È vero È l'etichetta Standard A pizzeria Disclaimer È così che io e Sio Siamo diventati Intolleranti al lattosio E quindi dopo Per ogni puntata Di Power Pizza Ci saranno questi 15-20 minuti Aggiuntivi Che saranno anche Organizzati in una maniera diversa Perché appunto Abbandoneremo Qualsiasi pretesa Di serietà E saranno editati In maniera diversa E registrati in maniera diversa Perché siamo fondamentalmente Noi che ci slacciamo Il bottone Alla fine del pasto E ci mettiamo Comodi a parlare Di tutto quello Di cui abbiamo appena Parlato in puntata Mangiando mozzarella Correttissimo Esatto Mentre sgranocchiamo Una bella mozzarella Croccante Ma non è finita qui Perché l'unica cosa Che è meglio Di una margherita Come sapete tutti È la margherita Fatta dalle Mucche Bufale No come si dice Si chiamano bufale Sono degli animali Che si chiamano bufale Ah giusto non sono mucche Ah hai ragione Quindi la margherita Dei bufali Ossia la bufala Che è il livello successivo Non so che l'hai detto Così buffo Buffolo La bufala Che è il tier successivo Ed è un tier ciccione C'è un sacco di roba Se nei primi due tier C'era Il canale telegram Il muro della pizzeria E l'after show settimanale Con Il tier della bufala Stiamo parlando di Un altro pasto E un pasto extra Nella tua Nel tuo mese Perché per 15 euro al mese Quello che avrete Sarà L'accesso al server discord L'accesso al server discord Che è una cosa diversa Al gruppo telegram Perché su telegram Chiacchieriamo Eccetera Ma su discord Non solo faremo Dei Sondaggini Per decidere L'altra cosa magica Del tier bufala Ma anche Potremmo decidere Per esempio Di fare dei videogiochi Insieme Tipo stasera Mario kart Chi c'è Cosa che potremmo Non fare adesso Subito Però discord Ha integrate Queste varie funzionalità Dei videogiochi Di fatto discord Diventerà la nostra Linea diretta Con i nostri supporter Di questo tier E tra l'altro Il sondaggio di cui parlavi Sarà un sondaggio Che faremo più o meno A inizio del mese E che deciderà Su cosa faremo La puntata monografica Di quel mese Perché Ebbene sì Ogni mese ci sarà Una puntata extra Monografica Quindi su un solo argomento Solo per I patron di questo tier E superiori E per quello che dicevo Che quelli che prendono Il tier della bufala Hanno un passo in più Perché ogni mese Si beccano una puntata Completamente extra Solo per loro E se non bastassi Sempre tramite discord E o altre soluzioni Che inventeremo in futuro Potete ascoltare La puntata live Quando la registriamo Quindi non solo Ve la potrete ascoltare Il venerdì Quando esce già Editata e sistemata Ma la potrete ascoltare Nel momento In cui la stiamo registrando Con anche il pezzettino Di pre-show Di noi Che parliamo Prima della puntata Organizzandoci E capendo di che cosa parlare Esatto Il che è una cosa bellissima Perché in quanto Podcast scientifico Sentire le cose Esattamente Quando le annunciamo Le menus Fresche e croccanti È importantissimo Fondamentale E soprattutto Nel pre-show E nell'after-after-show Magari Mentre ci ascoltate live Possiamo scambiare Due chiacchiere E rispondere a due domande Di voi Tier Bufalari E wow Quanta roba Vabbè è proprio Impossibile Che ci sia Un tier Ancora Superiore Introducing Calzone Con tutto Esatto Questo è un livello Per le persone Impazzite Completamente Perché l'unica cosa Che vi da in più Oltre a tutte queste Super cose Precedenti È che alla fine Di ogni puntata Ringraziamo Pubblicamente In tutte le puntate Quanto siete Mega pazzi Ringraziamo tutti I nostri calzoni Per nome Che probabilmente Saranno zero Perché costa 50 euro Al mese Se qualcuno Di voi È Elon Musk Magari Esatto Parliamoci Chiaro Non avrete Materialmente Qualcosa In più Degli altri Tier Se non Che il vostro nome Sarà declamato Alla fine Di ogni Singolo Episodio Esatto E la vostra Gloria Sarà Imperitura Perché siete I migliori Esseri umani Viventi Esatto Esatto In più Se avete Dei nomi Buffi Che io Debo leggere Tutta la Cioè Tutte le puntate Alla fine Sbellicandomi Dalle risate È meglio Quindi Osvaldo Sfascia Seggiole Ti aspettiamo Per i 50 euro Al mese Abbiamo bisogno Di persone Con nomi Come il tuo Che ribadiamo È un tear gag Ma perché c'è Patreon Perché questo Dà a voi La possibilità Di supportare Powerpizza Ma noi Vogliamo fare Più cose Con Powerpizza Anche per Ampliare Lo show Gratuito Per tutti Perché Uno degli obiettivi Sarà che Una volta raggiunta Una certa Cifra Di patron Di supporter Esatto Cosa super importante La cosa principale Che vogliamo fare Per fare Powerpizza È non solo Farla durare Un po' di più Magari Un'oretta Tutte le puntate Settimanali Esatto Tutte le puntate Settimanali Aggiungendo Anche dopo L'after show E tutto il resto Ma soprattutto Registrarla In maniera Molto più Come si dice Timely In italiano Timely Sì L'idea È di poter Fare uscire La puntata La settimana Stessa In cui la registriamo E per fare questo Il nostro sogno È poter fondamentalmente Incaricare qualcuno Di occuparsi a tempo pieno Effettivamente come un lavoro Di Powerpizza E di tutto ciò Che riguarda Powerpizza Per fare questo Ovviamente Ci servono dei fondi E dopo due anni Patreon Era la strada Che dovevamo percorrere In maniera da poter Lasciare il podcast Libero Per chiunque Volesse continuare A fruirlo Come fate adesso E dare la possibilità A chiunque Ci volesse supportare Di potenziare Powerpizza Sul lungo periodo Sì Tutte queste goodies Incredibili Dove le possono trovare Però Abbiamo Ovviamente Registrato Il miglior sito Dell'universo www.datecideisoldi.com E abbiamo anche pensato A tutti quelli Che o non possono permettersi Oppure non vogliono Supportare Powerpizza Che è assolutamente legittimo E non c'è nessun problema Totalmente lecito Perché è libero Il supporto è assolutamente libero Quindi scegliete voi Di farlo E noi Cioè non ci arrabbieremo Mai con voi Se non lo fate Esatto E quindi Se fate questa scelta Potete tranquillamente Andare su NONDATECIDEISOLDI.COM E niente Poi Non mi ricordo Cosa c'è su quel sito Scopritelo Quindi Ricapitolo Velocissimamente Gruppo Telegram In cui ci siamo anche noi MuroDellaPizzeria.com Aftershow Mozzarella Per ogni episodio Server Discord Una puntata monografica Ogni mese Che decidete voi Ascoltare la puntata live Con il chiacchierare live Declamare il vostro nome Di calzone Così tante cose Quindi Siamo impazziti? Sì Ma Dateci dei soldi Grazie PowerPizza Per aver sponsorizzato Questo episodio Do you like pizza? No I like PowerPizza Wow Così tante cose belle Mi unisco al coro E Inaspettatamente Consiglio anch'io Un libro Soltanto che Sì Oggi Le due persone Che non sanno leggere Del podcast Entrambe Consigliano un libro Perché ci piace Sovvertire le vostre aspettative Misdirection Il fatto è che Mentre Nick È quello delle emozioni E degli enendoti personali A me piace la struttura E la trama delle cose Il libro che Mi sento di voler Consigliare a tutti È Dune Del 1965 Di Frank Herbert Che per me Nel 2020 Rimane l'epica Fantascientifica definitiva Wow La trama Cerco di riassumervela Perché tipo È un super tomo Con un sacco Di cose complicate Però di base L'anno È il 10191 Quindi in un futuro Molto lontano Dove tutto L'universo conosciuto È governato Da una sola persona Che è l'imperatore Padiscia Shaddam IV Nick sei libero Di ridere i nomi ora Ok Quindi ci sono stati Almeno altri tre Padiscia Shaddam Almeno Minimo Minimo A meno che non fosse Anche il 3.5 So Ho pensato la stessa cosa Sappiamo come funziona In un futuro così lontano Fatto sta che Tutto questo Complessissimo governo È letto da Lanzrad Che è questo sistema feudale In cui delle antiche casate Governano interi pianeti E una di queste casate Che sono appunto I protagonisti del libro È la famiglia Atreides A cui per qualche ragione Viene dato in mano Il governo Del pianeta più importante In tutto l'impero Che è Arrakis Ah come Giuseppe Conte Praticamente Sì È la prima cosa Sì Tu Governa Oh ok Ok Perché l'imperatore Avrà fatto questa scelta Lo scoprirete leggendovi il libro Di certo non ve lo dico io adesso Fatto sta che C'è un grosso problema Perché Gli Atreides Si succedono nel governo Di questo pianeta Alla casata Con cui hanno una faida Lunghissima Che sono gli Arkonen Come se non bastasse Dune è il pianeta Più importante che esista Perché sulla sua superficie Si estrae il melange Anche noto come la spezia Che è praticamente Questa sostanza Che conferisce A chi l'assume Delle Il senso di sazietà Delle capacità Di distorsione Di percezione Dello spazio-tempo Ed è utilizzato Dai navigatori della Gilda Per di fatto Viaggiare senza muoversi E spostare In questa maniera Le enormi navi imperiali Quindi è di fatto La sostanza Più importante che esista E chi controlla Dune Controlla Ha un peso enorme Nell'impero Il protagonista di questo libro È il giovane Paul Atreides L'erede della Famiglia Atreides Come fa ad essere giovane? È nato nel Diecimilacinquecento Ottimo punto Hai ragione Allora Questo non giovane Paul Atreides Che si trova trasportato Dal pianeta paradisiaco Su cui è stato cresciuto Kaladan In questo contesto Super ostile alieno Che è Arrakis Dove tra l'altro L'unico pericolo Non è appunto rappresentato Dallo stesso pianeta Ma anche dai precedenti padroni Tra virgolette Del pianeta Che sono gli Arkonen Seguono casini Ovviamente le cose Non possono andare dritte Ci sono un sacco di faide Succedono cose Succedono un sacco di cose Il giovane Paul E la madre Jessica Vengono in contatto Con la vera popolazione Di Dune Che sono i Fremen Sabipodi Che sono i veri abitanti di Dune E i depositari Dei segreti del pianeta Io ho una domanda C'è Anakin? Sì Sì Sono soddisfatto Di questa risposta Allora Di base Con la trama Non posso dilungarmi ulteriormente Perché appunto Stiamo parlando Di un librone Super denso Di eventi Ma il discorso è che Tutte le cose Cioè Questo libro è incredibile Perché mette Tantissima carne al fuoco Ma sono tutte cose fondamentali Cioè Niente è buttato Solo lì Per fare numero E per creare epica Ma tutto si interseca E alla fine Il messaggio del libro È più profondo Della trama stessa Cioè A tutti gli effetti Il libro è una sorta Di trattato Di ecopolitica Senza però Che questo renda Meno appassionanti Le vicende dei protagonisti Perché poi c'è Tutto un discorso Legato alla programmazione Eugenetica Di una sorellanza Che si chiamano Le Bene Gesserit Che stanno Vogliono creare L'essere perfetto Il Quisazza d'Irak La Jihad Che i Fremen Hanno intenzione Di scatenare Nel cosmo Il fatto che Paul Possa essere forse Questo profeta Di cui si fa tanto parlare Il fatto che Il pianeta desertico Dune Possa in realtà Rinascere E diventare Un paradiso fertile Se amministrato Con la giusta Tipo Lungimiranza È una cosa Complicatissima Bellissima Estremamente profonda Ed estremamente attuale Ancora oggi Vi prego Leggetelo Sì le somiglianze Con l'Italia Sono incredibili Che ho appena detto Scusa Ho solo una domanda Sulla prosa Visto che è stato scritto Nel 1965 E penso tradotto Intorno a quegli anni In italiano Ah non si capisce niente Se lo leggi adesso Cioè sono tipo 900 pagine Di gibberish Come si dice in italiano Parolastrine Giberisha La gibberish No È super scorrevole Ed è bellissimo Da leggere anche adesso Completamente attuale Veramente Wow Grazie Lorro Cioè È meglio di qualsiasi altra cosa È la fantascienza È Dune Wow Io non sapevo Che in questa puntata 100 Ci sarebbe stato Quello che Forse tante persone Penseranno essere Un inserto Di Galaxy Spaghetti In realtà Come sappiamo tutti È Galaxy Libretti Questo è diverso In realtà avrei voluto Dilungarmi Ma ho pensato Posso prendere due piccioni Con una fava E tipo Ne parlo iper velocemente In maniera iper confusa E poi mi tengo La volta in cui ne parlo In maniera più dettagliata Per un episodio di Galaxy Spaghetti Così posso fare due puntate Con lo stesso argomento Yes Nice Certo Power Pizza Abbiamo finito le idee Cioè Abbiamo parlato per mezz'ora Del nostro Patreon Ragazzi Esatto Such patetici Volevo dire Such un'offerta Andate su Dateci dei soldi Ah ma sai che cos'è Che non ha la sabbia Quello di cui vuoi parlare Tu Sio Wow Zero impegno Per i segue Esatto Prima di parlare Della cosa Mia Il mio consiglione Da 100 fette di pizze Vorrei Addressare Che è una parola Della lingua italiana Ma no Quello che ci dicono Tutti Da circa 50 puntate Cioè Nella puntata 100 Ci saranno tutti Gli ospiti Ed è in questo momento Che finalmente Vi sveliamo Che li abbiamo invitati Tutti qui In questo momento E hanno detto Tutti che non potevano venire Ma in realtà Non volevano venire Nessuno di loro Voleva venire Li abbiamo implorati E no Hanno detto anche no Basta Però li ringrazio Tutti con un colpo solo Facendovi sentire I loro messaggi vocali Che ci hanno mandato Di auguri A Power Pizza A Power Pizza 100 Grazie amici Esatto Che ci hanno mandato Prima di questa puntata Eccoli qua Eccoli Grazie 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 Bellissimi Che messaggi Pregni Vorrei proprio Toccanti Sì no Non possono toccarti Sono dei file Comunque Io oggi Che cosa volevo consigliarvi Te lo stai chiedendo da solo O lo sai Che cosa vuoi consigliare Allora Oggi Porto un tipo di media Nuovo Mai sfruttato Su Power Pizza Le albicocche Le albicocche Raga Sono una bontà Incredibile E la frutta Non sono media Nick Per l'ultima volta Cosa A parte che le albicocche Sono buonissime Ma poi Volevo parlare di un musical E non è un musical È il musical Non fate wow Sapete già di cosa voglio parlare Certo che sì Rock your horror pizza show Di Hamilton Un American musical Wow wow Yamme ya Mamma mia Mamma mia No Hamilton È il mio musical preferito Vi racconto Rapidamente Come ci sono entrato A avere a che fare In una maniera Tra l'altro Fortuitissima Perché Ho ascoltato Una playlist smart Di Spotify A partire da un artista Che mi piaceva No giuro Canzoni correlate A un certo punto Sento una canzone Fighissima Guardo Cos'è sta roba Hamilton Cos'è sta roba Di Hamilton An ascolta l'album Ho fatto partire L'album Ho scoperto Che era un musical Ho detto Mamma mia What the fuck Cosa ti sta succedendo In questa maniera Cento Sì Comunque ok E l'album Mi pare di capire Ti è piaciuto molto Ma in maniera smodata E ho detto Oddio Forse Sono musical Sessuale Sono attratto Dai musical Fortissima Ma proprio I musical Mi piacciono Molto più Della musica Perché I musical Hanno sia la musica Tutti i teatri Dove fanno un musical Per ragioni Che non staremo A dire in puntata Ho letteralmente Ascoltato tipo Un miliardo di volte L'album Tra l'altro Ogni volta Partendo dall'inizio Perché Mi sembrava brutto Non ascoltarlo Tutto in ordine Perché è una storia Ovviamente Potentissima Che parla di Appunto Alexander Hamilton Che è sto tizio Nato nel mezzo Dei Caraibi Emigrato Negli Stati Uniti Alla fine Del diciottesimo secolo Ed è diventato Uno dei padri fondatori Ed è Praticamente Stato il primo ministro Dell'economia Approssimando Fortissimamente Ed è una persona Che è adesso Sulla banconota Da dieci dollari Domanda Aveva anche lui Un cappello buffo E andava a caccia Di tacchini Ma è lo stesso Che oggi Corre in Formula 1 Giusto? Sì A 350 anni Ed è L'F1er Come si dice Il corridore di macchine Più veloce E più vecchio No Non ho idea Di chi sia Il tizio delle macchine Però questo tizio È bellissimo È un musico scritto Da Lin-Manuel Miranda Il nostro amico Che ci ricorderemo Per le musiche Di Moana Sì Infatti sì Grazie per averlo detto Mi vergognavo tantissimo Ma io me lo pensavo Per quello Mi piace tantissimo Moana Scusate Le musiche di Oceania Sì Cinque minuti Prima della fine Appare Fa la canzone I am Anakin È una canzone Che fa solo così Per un secondo E taglia delle mani A delle persone Che passano Wow Best canzone E praticamente Cioè una persona Che come me Ha zero contesto Zero affetto Per la storia Degli Stati Uniti Non me ne frega Niente Cioè mostra Quanto la potenza Di questa storia Che viene raccontata Attraverso la musica È una cosa Assurda Cioè io A me fa Malissimo il cuore Ogni volta che lo ascolto Ma perché lo amo Fortissimo Nick tu l'hai appena visto Su Disney più Giusto? Io l'ho appena visto Su Disney Plus Alla fine Delle due ore E quaranta minuti Di spettacolo Sono rimasto tipo Dieci minuti A guardare lo schermo In silenzio Dicendo Che cos'ho appena visto Il mio cervello Non era minimamente pronto Alla grandiosità Di questo spettacolo E ha la complessità Su cento livelli Di lettura Di tutto È bellissimo Esatto Perché è questo Che non mi riesco a capacitare Hamilton è il pezzo Di media Anche se mi sembra Proprio un modo brutto Di parlarne Però è È la cosa Più enorme Che io abbia mai visto Perché la puoi esperire In moltissimi modi diversi E in ogni modo diverso Hai diverse chiave di lettura E sono tutte Super emozionanti E tutte fatte Con iperpassione Cioè Magari ne parlo Faccio una recensione Dopo che ho visto Anch'io Su Disney Plus Ma infatti Giocati la mia stessa strategia Puoi benissimo Sfruttare questa cosa Per un altro episodio No ma quindi Tipo l'episodio 101 Ci sarà loro che recensisce Dune in maniera approfondita Sì io che parla di Hamilton In maniera approfondita Io che parlo di Dance and Dance Accennando alla trama Io non so fare cose In maniera approfondita È diverso Ma posso accennarle Cioè io lo amo Tanto che ho preso un aereo Sono andato a Londra A vedermelo Ma è appena uscito Su Disney Plus Con il cast originale Del 2016 E ne ho visti Cinque minuti E sembra una bomba Ve lo straconsiglio E se poi lo guardate Vi consiglio anche Un episodio di Strong Songs Che è un podcast Di Kirk Hamilton Che non c'entra niente Con Hamilton Wow Che titolo fantastico Tra l'altro Sì Strong Songs È questo musicista Bellissimo Doppio consiglio Questo musicista Questo musicista Questo musicista Very very bravo Che praticamente Ti prende una canzone Te la disseziona Durante un'oretta Di podcast Ti fa un podcast Approfonditissimo E c'è una puntata Su Satisfied Che è la canzone Di Angelica In cui viene presentata Angelica In Hamilton Ve lo consiglio E lo trovate Nella notte dell'episodio 100 fette di pizza A Lin Manuel Miranda Que ha deciso Di portare un librone Di tipo 1200 pagine Su una biografia Di un tizio In un musical Della Madonna Grazie Pelle d'oca E musica per tutti Grazie Magari sarà Il pretesto Che mi spingerà A farmi Disney Plus Col cacchio No però Troverò il modo Di guardarle In qualche maniera E tra l'altro È bellissimo Che Cioè Veramente A me è piaciuta Tantissimo Questa cosa Di dare consigli Mega belli E sarebbe proprio Un peccato Se proprio Alla fine dell'episodio Dovessimo rovinarli Con un amaro No Non ci sono amari Per la puntata 100 È tipo illegale Ma Aspetta Oddio Cos'è questo sito Che ho trovato adesso Pare Pare che Oltre a Datecideisoldi.com E non datecideisoldi.com Ci sia un terzo sito Ma Di che cosa si tratta? No no Non andate Ve l'ho scritto prima in privato Non andate su www.megatruffa.com No Cioè no Mi sento così truffato Non andate mai su questo sito È molto pericoloso Non andateci Cosa facciate Non andate su Megatruffa.com Smettiamo di parlarne È pericoloso Anche citarlo Megatruffa.com Un mio amico Che ha guardato Megatruffa.com Dopo sette giorni Ha visto The Ring Ed è morto Quindi Poi Due settimane dopo Per essere stati con noi Per Boh La puntata più importante Che sia mai esistito Di qualsiasi podcast Di qualsiasi altra cosa Sulla faccia della terra Sì Che tra l'altro Se la classificate Con la divertenza È la puntata Meno divertente Di Power Pizza Ma la puntata più importante Contemporaneamente Perché segna Il momento in cui Power Pizza È arrivato Al livello successivo Ed è stato solo grazie A voi Ascoltatori Al capitalismo Al capitalismo Esatto No Quindi è importantissimo Come Per queste cento puntate Vorrei ringraziare Delle persone Vorrei ringraziare In primis voi due Perché siete i miei migliori amici E vi voglio un sacco bene E vi amo tantissimo Con i cuori nel cielo Versone di cui di sicuro Ricordo il nome Vi direi che vi voglio Moltissimo bene anch'io Ma non è una cosa virile Quindi dopo vi mando Una gif Di Flexare i muscoli Esatto Quindi dopo vi mando Un pugno Vorrei ringraziare Chiara Zuliani Per aver fatto il residen Grafico di Power Pizza Ed è bellissimo E vorrei Soprattutto Perché questa è la cosa Importante Ringraziare tutti voi Che ci state ascoltando Perché se Power Pizza Applausino per voi Se Power Pizza Arriva Oggi ad essere All'episodio 100 Se Power Pizza Ha aperto Un canale Twitch Se Power Pizza Andrà avanti Facendo 100 milioni di cose Se Power Pizza Esiste E sicuramente A meno che Decidiate di andare su Non dateci dei soldi Punto com Anche grazie a voi E È un bellissimo viaggio In cui andare tutti insieme Sì la cosa è Super cheesy Mannica super ragione Grazie per averci seguito Fino a qua E speriamo per Continuare a seguirci Oltre Indicando l'orizzonte Finito 100 di questi giorni 100 di queste puntate Quindi Tecnicamente 10 mila puntate Di Power Pizza Io ci sto Anch'io però Sarà bellissimo Fare Power Pizza Da vecchi In cui recensiremo Non lo so Le pillole della pressione Succederà tipo Tra sei mesi Sì certo Io ho male alla schiena Wow Power Pizza Old age Sarà bellissimo Comunque Nonostante Tutte le nuove novità Ci potete trovare Come al solito Su www.powerpizza.it Sul nostro ormai Iper classico Account Instagram At Power Pizza Podcast 111-222-333 E sul nostro canale Di Twitch Che pian piano Continua a diventare Sempre più attivo Power Pizza Podcast Cercandolo Su Twitch Ma soprattutto Devo aggiungere Una cosa Su dateci Deisordi.com Il nostro Patreon E che ci siamo Dimenticati Che dal tier Margherita In su Ci sono anche Gli sfondi E le suonerie Di Power Pizza Sono brutti Però ci sono pure quelli Grazie a tutti Sio sbaglia sempre Quando dice brutti Intende dire Wow la cosa più bella Che abbia mai visto Sì Ho detto brutti Volevo dire La cosa più bella Che abbia mai visto Scusa In più ci sono Le suonerie Le sigle I file audio Ci sono un sacco di cose Quindi io fossi in voi Andrei a vedere Il Patreon di Power Pizza Anche perché c'è un video bellissimo Ok basta spoilers Ciao amici Ciao Grazie a tutti Ci sentiamo la prossima puntata Con una puntata Molto più mesta Perché non sarà Più la cento Alla puntata Ciao Torniamo sul nostro pianeta Sono molto educati Fantastica Internet Io buongiorno La signora Mese Vinci Power Pizza Non mi sento deluso 24 euro Astronomia Sono solo risate Fluido Esatto No No Non mi sento deluso Non voglio così Don самое